Weekend con lo street marketing festival, che cos'è Mara Pellizza questo festival? Ora vi aspettiamo sull'Istone da via Garibaldi al municipio e da via Garibaldi a tutto via Santa Lucia per creazioni straordinarie. La realtà virtuale Installazioni particolari, ci sarà la realtà virtuale gratuita, c'è divertimento. Il senso di questa nuova forma di pubblicità? Valorizzare la creatività, perché con la creatività si possono raggiungere grandissimi risultati a basso costo e con una resa maggiore. Grazie, buongiorno mattina. Buongiorno mattina.